Minorenne è violentata dal branco dopo una serata in discoteca a Porto d'Ascoli, individuati gli autori del presunto stupro, indagini della procura per far piena luce sulla vicenda. Ancona pensa già al dopo Mancinelli, duello tra Simonella e Pesaresi per il posto da sindaco della cittadorica, primarie fissate per il 13 novembre. Aperte le iscrizioni alla Scuola per Imprenditori, un progetto di confartigianato Ancona e Pesaro Urbino in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche. Divertimento e musica con l'RDS Summer Festival, la Riviera delle Palme aspetta il live di J-Ax per la serata conclusiva della Kermess, ieri sera successo di pubblico per Achille Lauro. Ancora una buona domenica, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dedicata alle Marche. Torniamo a parlare della vicenda della minorenne violentata dal branco fuori da una discoteca a Porto d'Ascoli. Sarebbero già stati identificati i presunti autori dello stupro. La Polizia raccoglie la loro versione dei fatti, oltre a visionare le telecamere di videosorveglianza dopo la denuncia della 17enne. Sentiamo. Vanno avanti i spedite, ma nel massimo riservo le indagini della procura scolana sul presunto stupro di gruppo avvenuto fuori da un locale di Porto d'Ascoli ai danni di una 17enne sanbenedettese. I membri del branco sarebbero già stati identificati dalla Polizia dopo la denuncia della minorenne, che si è presentata in pronto soccorso dicendo di aver subito una violenza sessuale da parte di cinque ragazzi, mentre si trovava in compagnia di due amici. Così non è servito molto tempo agli agenti per chiudere il cerchio e ascoltare la versione dei ragazzi, il tutto dopo che le pattuglie della squadra mobile di Ascoli e del commissariato di San Benedetto hanno compiuto un blitz nel locale da ballo per fare un quadro della situazione, ma soprattutto per visionare le telecamere di videosorveglianza interne ed esterne. La 17enne era andata in discoteca nella serata di mercoledì e all'uscita pare si fosse appartata alle spalle del locale che si trova vicino alla Scolimare. Era con un paio di amici quando si sarebbero aggiunti altri 4-5 ragazzi che avrebbero approfittato sessualmente di lei. L'inchiesta è scattata con 24 ore di ritardo all'alba di venerdì, quando la minorenne ha trovato il coraggio di denunciare ed è stata accompagnata al pronto soccorso dalla madre. Un evento gravissimo sul quale i sanitari avrebbero confermato la presenza di segni compatibili con una violenza sessuale. Dunque si continuano a raccogliere elementi e testimonianze per sapere come siano andate realmente le cose e capire se chi ha agito avesse abusato di alcol e droghe, stessa cosa per la condizione della vittima. Si tratta della seconda denuncia di stupro dall'inizio dell'estate nella Rivera delle Palme, ma il primo episodio avvenuto in zona Ballarin si sarebbe di molto ridimensionato dopo gli accertamenti degli agenti. Non per questo le indagini del caso vengono prese meno seriamente. Anzi, di certo, la notizia di uno stupro di gruppo su una minorenne preoccupa non poco, specie i genitori delle giovanissime, ma sui social spuntano anche commenti sessisti. Restiamo in Rivera con la cronaca. Un malore improvviso forse dovuto all'eccessivo caldo. Ha stroncato un anziano di 81 anni mentre passeggiava lungo Via Mare a Porto d'Ascoli. Si chiamava Vittorio Sciamaro e viveva proprio in zona con la moglie. Per l'uomo purtroppo tutti i tentativi di rianimazione tentati dal personale sanitario del 118 si sono rivelati vani. I funerali saranno celebrati nel pomeriggio di martedì alle ore 16 nella chiesa di Cristo Re. E dopo il tragico schianto in cui ha perso la vita Augusto Rosetti, il 52enne sanbenedettese, si torna a parlare della pericolosità di Via Manara. Sentiamo Stefania Serino. Sabato di sangue in Via Manara dove nel tragico frontale tra auto e scooter avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15, ha perso la vita Augusto Rosetti, 52 anni, di San Benedetto. Il dramma si è consumato proprio dinanzi alla sede della Caritas diocesana. La vettura, una Fiat Punto Bianca condotta da un anziano signore, procedeva in Via Manara con direzione Monti Mare, quando nello svoltare verso Via Madonna della Pietà si è scontrata con il Due Ruote, una Kimco Agility. L'impatto è stato violentissimo. Le condizioni del centauro sono apparse subito gravi. Due ambulanze sono partite dal vicino ospedale di San Benedetto. Il ferito è stato trasportato al Madonna del Soccorso in Codice Rosso, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Ogni tentativo da parte dei sanitari di rianimare il 52enne è risultato vano. Purtroppo Augusto Rosetti ha perso la vita, illeso il conducente della Fiat Punto. Sul luogo dell'incidente si è recata una patuglia della Polizia Municipale che ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso onde ricostruire l'esatta dinamica del drammatico incidente. In strada diversi residenti della zona che hanno posto la questione della pericolosità di quel tratto di strada. Pericolose, pericolose forse no, ma non ci sono i controlli di vigili urbani, non ci sono controlli più. Sì, è abbastanza pericolosa. Poi alla sera quando contro luce, contro sole, non si vede niente purtroppo. Chi viene da est verso ovest. Quindi è abbastanza pericolosa. I vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti poco dopo le 13 di questa domenica lungo la circonvallazione nord per un incidente stradale che ha coinvolto un'auto che si è ribaltata in prossimità della rotatoria Ex-Gil. La squadra ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre il conducente che era rimasto incastrato all'interno della vettura. Il ferito è stato trasferito al Mazzoni di Ascoli. Cambiamo argomento, parliamo di politica. Mentre si profila il duello per le primarie del centro-sinistra tra Simonella e Pesaresi, è stato presentato il programma politico Progetto Ancona. Lo spiega nel servizio Valeria Mancinelli, la sindaca attuale. Inoltre è stato anche sottoscritto il regolamento per le primarie del prossimo 13 novembre. Si profila il duello per le primarie del centro-sinistra del prossimo 13 novembre in vista delle amministrative del 2023 tra l'attuale assessore al porto Ida Simonella e Carlo Maria Pesaresi, ex assessore alla cultura della provincia di Ancona. Nel frattempo è stata presentata la coalizione di centro-sinistra costituita da forze politiche e liste civiche che hanno deciso di scendere in campo. È stata Valeria Mancinelli a tenere battesimo Progetto Ancona, il programma politico per il quale illustra gli obiettivi. Già con un anno di anticipo rispetto alla campagna elettorale, alla scadenza elettorale, la coalizione di centro-sinistra ha fatto la parte più importante del percorso. È partita dal concordare un programma e un programma non di aria fritta. Quindi la felicità, l'unione, l'Europa, che possono dire tutti, ma da un programma di cose molto ben definite che dominiano un'idea di città. Su quel programma la coalizione, il cavolo della coalizione, ha lavorato per alcuni mesi e su quel programma un arco di forze ampio si è ritrovato. Quindi oggi c'è la coalizione di governo che si presenterà nel 2023. C'è l'accordo per scegliere il candidato sindaco attraverso le primarie, quindi è stato anche sottoscritto il regolamento per le primarie. Quindi in modo partecipato, trasparente e senza notti di lunghi coltelli, si sceglierà il candidato sindaco del centro-sinistra, uniti, ma uniti no su nulla, uniti su un programma preciso. Una gran bella giornata, non solo per il centro-sinistra, ma per la politica. Il programma ovviamente sarà un programma che parte dalle cose che si sono fatte e che si stanno facendo anche in questa consigliatura, come è ovvio che sia, e guarda però anche al futuro, al domani, pensando all'asse strategico che è quello della transizione ambientale, su questo non c'è dubbio, che va definato ovviamente su tutti i terreni, dall'apparato produttivo, alla riqualificazione della città, eccetera. Quindi in continuità e però guardando alle grandi sfide dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Andiamo a vedere la situazione Covid, il leggero calo ai positivi e l'incidenza di casi ogni 100.000 abitanti nelle Marche, che da 1.360 passa a quota 1.351. I nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore sono invece 2.468 e sono emersi dall'analisi di 6.949 tamponi. Si conta fortunatamente un solo decesso per un totale di 3.967 vittime dall'inizio della pandemia. La situazione degli ospedali scendono a 165 ricoveri nei reparti non intensivi, dunque meno 3 rispetto a ieri, meno 1 in terapia intensiva per un totale di 5 pazienti e stabili invece quelli nei reparti non intensivi, fermi a 13. Ma salgono da 31 a 44 i pazienti in attesa nei pronto soccorso. A San Severino a Marche invece dal prossimo settembre sarà attivo il nuovo ambulatorio di oncologia genetica. Ce ne parla in dettaglio nel servizio la nostra Daniela Gurini. L'ospedale di San Severino Marche, noto per l'impegno nella cura dei pazienti oncologici, ora si arricchisce di un nuovo ambulatorio di oncologia genetica, confermandosi un riferimento per la sanità dell'area vasta 3. Naturalmente è un valore aggiunto di non notevole importanza, perché questo è un servizio tra l'altro dal punto di vista strettamente medico fondamentale, perché poter dare una risposta a pazienti che attraverso una mappatura genetica possono sapere, in base alla familiarità che hanno e tutte le informazioni che vengono fornite di un'anamnesi oncologica, sapere se possono meno sviluppare una neoplasia. Dal mese di settembre sarà operativo il nuovo ambulatorio di oncologia genetica che dialogherà con Torretta attraverso una lista CUP dove si potrà perannotare il test che viene offerto al paziente che ha già sviluppato la malattia. Questo è il progetto nato dalla volontà del dottor Luca Faloppi, ancora prima di insediarsi nel presidio di San Severino, quando era ancora macerata. È un progetto che è effettivamente molto utile, perché la componente genetica sia dal punto di vista della prevenzione che dal punto di vista del trattamento comincia a essere particolarmente importante in oncologia, lo sarà sempre di più. La vera novità è che il paziente potrà fare parte del suo percorso vicino casa, quindi quello che si muoverà sarà il suo prelievo di sangue per il test. L'oncologia dell'ospedale di Macerata, diretta dal dottor Battelli, è inoltre in dialogo costante con quella di San Severino e della Regione, avvalendosi di professionisti che seguono studi clinici e protocolli di ricerca con farmaci sperimentali. Il dottor Faloppi, che da pochi mesi è il responsabile dell'unità operativa di San Severino Marche Camerino, Milano è un'espertise di tumori del tratto gastroenterico e ha un collegamento diretto con le più importanti strutture nazionali e internazionali che seguono i tumori del tratto gastroenterico e abbiamo in questo momento dei protocolli attivi con il San Raffaella di Milano per i tumori del pancreas e i tumori dell'intestino. L'oncogenetica è la nuova frontiera dell'oncologia dedicata alla componente ereditaria delle malattie tumorali, con lo scopo di sviluppare misure diagnostiche, terapeutiche e preventive per soggetti a rischio. Il centro di riferimento regionale d'alta specializzazione in genetica oncologica che esiste appunto presso l'Università di Ancona e gli ospedali uniti di Ancona rimane punto di riferimento per le professionalità dei biologi, dei patologi, degli oncologi ma anche per la disponibilità di macchinari d'avanguardia che ci permettono di effettuare dei test di ultima generazione. L'obiettivo di questo progetto è far muovere i campioni, in questo caso i campioni di sangue, limitando gli spostamenti dei pazienti. Quindi avere un ambulatorio territoriale ci permette di fare una prima analisi sul paziente, sulla sua famiglia, di verificare se ci sono le condizioni per effettuare un test e da qui di effettuare il prelievo sul territorio. Questa giunta con il no agli ospedali unici ha puntato sul mantenimento dei presidi ospedalieri con la volontà di ampliare le attività e far spostare il meno possibile i pazienti e farli rimanere nelle strutture più vicine. Una malattia trasformata in melodia. Giovanni Allevi torna a scrivere sui social parlando del mieloma che gli è stato diagnosticato. Rivela di aver cominciato a comporre un'opera intitolata proprio come il suo male con il desiderio di portarla sul palco, una volta guarito. Appena ricevuta la diagnosi di mieloma, prima ancora di chiedere cosa fosse, sono subito andato a vedere quali note musicali corrispondessero le lettere del suo nome secondo un procedimento matematico già usato da Bach, spiega l'artista Ascolano. Ebbene, da mieloma scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza, scrive ancora il famoso pianista. Ed ora la questione sanitaria e degli ospedali del Piceno che continua a tenere banco sia tra la popolazione che nella politica. Noi abbiamo ascoltato l'opinione del presidente della provincia Sergio Loggi, nonché sindaco di Monteprandone. Io come presidente della provincia qualche tempo fa ho mandato una lettera al sindaco di Ascoli, al sindaco di San Benedetto, invitandoli a convocare l'assemblea dell'area vasta 5. Un'assemblea che ferma da tre anni, un'assemblea che ancora oggi non ha un presidente perché sono tre anni che non viene convocata. Quindi io penso che il passaggio principale è ridare l'importanza che ha dell'assemblea, rinominare il presidente e iniziare poi un percorso condiviso del Piceno verso la regione. Sulla sanità è un argomento molto delicato e un territorio come il Piceno non si può permettere di andare diviso. La regione, in particolar modo Guido Castelli, parla di un ospedale di primo livello su due plessi. Questa idea la convince? È praticabile? Beh, diciamo che sicuramente sia Ascoli e San Benedetto rivendicano un ospedale di primo livello. Può essere una soluzione, ma ripeto, una soluzione deve essere una soluzione concreta. Deve essere comunque un... cioè dobbiamo in qualche maniera dire e avere delle risposte concrete da parte della regione. Due plessi? Va bene. Un plesso, quello che sia, va bene. L'importante è che l'ospedale venga fatto un ospedale degno di essere chiamato ospedale di primo livello. Negli anni scorsi si era parlato, e lei l'aveva proposto anche in campagna elettorale, di localizzare il nuovo ospedale nella zona di Monteprandone, nella zona, diciamo, ai confini col comune di San Benedetto. C'è ancora questa proposta? Ne ha parlato con Spazzafumo? Allora, la nostra proposta è sempre sul tavolo della regione. Abbiamo, appunto, un terreno abbastanza importante per la realizzazione del nuovo ospedale sulla Rivera. È a confine con San Benedetto, quindi nella zona di Fosso dei Galli. Questa soluzione ancora noi la portiamo avanti. Logicamente la nostra è quella di condividere il tutto con San Benedetto. Quindi noi siamo, come comune, siamo disponibili a un percorso condiviso con il comune di San Benedetto. L'area è ancora disponibile. Per assurdo è sul nostro territorio, ma molto più vicino al territorio, diciamo, a confine con San Benedetto. Si sono aperte le iscrizioni per la 17esima edizione della Scuola per Imprenditori al Via da Settembre. Un importante progetto di confartigianato e imprese Ancona e Pesaro in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e Confidi. Tutto pronto per ripartire con la 17esima edizione della Scuola per Imprenditori. Il progetto, nato dalla collaborazione tra confartigianato e imprese Ancona-Pesaro-Urbino e il Dipartimento di Management dell'Università Politecnica delle Marche e che quest'anno si arricchisce della collaborazione delle partner con Fidi Unico. L'obiettivo della Scuola di Imprenditori di confartigianato e imprese Ancona-Pesaro-Urbino è quella di essere uno strumento utile ai nostri imprenditori per competere in un contesto complesso. La riteniamo particolarmente importante, soprattutto in questo momento, che è un periodo di grandi cambiamenti, di grande turbolenza dei mercati e di grandi variazioni su tutto quello che potrebbe essere la previsione per il futuro, per il nostro tipo di imprese in maniera particolare. Vogliamo essere a fianco degli imprenditori aiutandoli ancora più, non solo a comprendere un mercato, ma a facilitare il loro ingresso nel mondo del credito. La Scuola vuole offrire agli imprenditori una formazione di alto livello con lezioni totalmente gratuite coordinate dal Rettore Gregori. Ogni anno è fondamentale andare a trattare argomenti che siano utili, quindi il lavoro che noi facciamo è questo. Dal punto di vista metodologico l'approccio deve essere operativo. Il percorso didattico si articolerà in un ciclo di sette lezioni, suddiviso in tre moduli. La Scuola per Imprenditori è uno strumento in più che Confartigianato vuole offrire alle imprese per essere competitive sui mercati e per avere gli strumenti per affrontare i mercati. Le tematiche sono state, proprio per questo, scelte e elaborate in base anche alle indicazioni che ci sono arrivate dalle imprese che ci hanno indicato le loro priorità. Si inizia il 12 settembre, il calendario delle lezioni proseguirà il 26 settembre, il 10 e 17 ottobre, il 7, 21 e 28 novembre. Insieme alla Confartigianato siamo convinti che riusciremo a superare questo periodo storico e siamo orgogliosi di ospitare all'interno dell'associazione un'eccellenza come il progetto Scuola per Imprenditori. Per iscriversi e partecipare alla Scuola Imprenditori basta andare sul sito confartigianatoimprese.net e cliccare sul link dedicato. Una buona notizia, nelle Marche un record positivo che conferma come l'inquinamento marino sia molto lieve. Vediamo il servizio di Ciro Montanari. Sono stati pubblicati dalla Regione Marche i bandi rivolti ai comuni per prevenire lo spreco alimentare e per la sostituzione delle cassette in epolistirolo nel settore ittico. Due interventi importanti a tutela dell'ambiente che prevedono la distribuzione gratuita di eccedenze alimentari oltre alla promozione e alla realizzazione di un sistema rete finalizzato a questa attività. Noi abbiamo emesso come Regione Marche i giorni scorsi un bando che è rivolto ai comuni costieri, i comuni che hanno porti o porticcioli, quindi con l'attività anche di pesca o di diporto. Questo bando è evocato appunto a sostituire le cassette che sono di polistirolo, quelle che regolarmente vengono usate dai nostri pescatori per mettere il pesce. Sono cassette tendenzialmente di polistirolo, cosa succede? Che a volte si rompono, deperiscono, vengono a volte abbandonate o cadono in mare, rimangono in mare. Ecco noi le vorremmo sostituire con cassette di plastica che sono multiuso, quindi si possono usare più volte evitando quindi che venissero disperse dei materiali dannosi in mare. Abbiamo stanziato 100.000 euro ed è messo già un bando al quale risponderanno i comuni e poi i comuni agevoleranno le proprie marinerie a secondo delle esigenze che si porranno. Azioni importanti che rientrano tra le diverse strategie di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e contenimento dei relativi impatti. Il tutto a conferma è di un inquinamento marino che per le marche risulta molto lieve. Ci tengo a dire che l'inquinamento marino nelle marche è molto lieve ed è anche migliorato rispetto agli scorsi anni. Noi quest'anno abbiamo una bandiera blu in più, quella di Porto Recanati, ma soprattutto abbiamo tutta una serie di analisi che evidenziano con nettezza il fatto che la stragrande maggioranza delle spiagge, delle acque che toccano le nostre spiagge, delle marche, sono acque eccellenti. Ci sono alcuni punti di sofferenza, ma è una sofferenza oltretutto lieve, alle foci dei fiumi, come è plausibile che sia. Altrimenti abbiamo un ottimo stato delle nostre acque costiere. E dopo due anni di stop per la pandemia torna alla festa di Sant'Emidio. Gli Ascolani potranno infatti finalmente ritrovarsi per celebrare il patrono il prossimo 5 agosto. Verranno riproposti anche due momenti clou, come quello della tombola e dello sparo. Sentiamo Matteo Porfiri. Un altro segnale grande di ritorno alla normalità. Ascoli torna a celebrare di nuovo la festa del patrono Sant'Emidio. Quella del prossimo 5 agosto sarà una giornata decisamente speciale per tutto il popolo piceno, visto che negli ultimi due anni le manifestazioni erano state annullate. Solo sulla carta però, considerando il fatto che la gente si era ugualmente radunata nelle vie e nelle piazze del centro per ritrovarsi in alcuni momenti di spensieratezza e serenità. Quest'anno comunque le celebrazioni tornano ad avere i crismi dell'ufficialità e dopo l'assenza del 2020 e del 2021 tornerà anche il momento clou, rappresentato dallo spettacolo pirotecnico che comincerà intorno alla mezzanotte e mezza, proprio del 5 agosto. Verrà riproposto in realtà anche un altro momento estremamente caratteristico della festa di Sant'Emidio, ovvero la tombola di Piazza Ringo, con in palio buoni spesa per chi riuscirà nell'impresa di indovinare tutti e cinque i numeri vincenti. Il tabellone, come sempre, verrà allestito sulla terrazza del Palazzo Comunale. Insomma, tanti appuntamenti assolutamente da non perdere, sia per quanto riguarda il programma civile che quello religioso. Sì, finalmente torna pieno regime la festa del nostro santo patrono Sant'Emidio, con una grande e straordinaria collaborazione con il nostro vescovo, il comitato organizzativo della festa di Sant'Emidio. Veramente un grande lavoro, quest'anno sarà la festa a titolo pieno, quindi con tutte le persone facciamo anche la lotteria, anche lo sparo, torna lo sparo e quindi veramente sarà un segno di ripartenza. Aspettiamo tantissime persone quest'anno al santo patrono e durante i festeggiamenti abbiamo organizzato anche con dei gruppi locali anche delle manifestazioni artistiche, quindi cerchiamo anche di rianimare in questa fase particolare affidandoci sempre al nostro Sant'Emidio. Anche se, nonostante lo stop delle manifestazioni ufficiali, sia l'anno scorso che nel 2020, gli ascolani non hanno rinunciato a portare il loro saluto al patrono. Sì, nemmeno lo scorso anno, i due anni fa, non hanno rinunciato le persone. Ovviamente abbiamo fatto un po' i festeggiamenti in modo più ridotto, però ovviamente abbiamo cercato anche sempre di organizzare, perché i festeggiamenti ricolti nel nostro santo patrono è fondamentale anche per la vita spirituale dei cittadini ascolani. Ultimo giorno a San Benedetto per l'RDS Summer Festival, divertimento per grandi e piccini, dalla spiaggia fino alla pineta del Campo Europa. Le nostre telecamere sono andate sul palco del Beach Village con la nostra Jessica Balestra e questa sera vi ricordiamo il live con J-AX. Musica, divertimento e intrattenimento per tutte le età qui all'RDS Beach Village di San Benedetto del Tronto. La festa continua! E allora fatemi vedere! Una bella giornata, giornata di sole, i bambini sono contenti e niente. Speriamo di poterle fare più spesso in modo tale da poter creare questa situazione. Lui però si sta esercitando e già rispetto a ieri è migliorato tantissimo. Le donne vi battono? Le donne ci battono sempre. Siamo qui in vacanza per una settimana, stiamo facendo un giro in bici, abbiamo visto lo stand qua di RDS, ci siamo fermati per dare un'occhiata. Vi tratterrete anche per questa serata, c'è il concerto di J-AX. Ma può darsi che veniamo a fare un salto più tardi. Musica, divertimento e divertimento. Ci possiamo inserire anche noi? Siete in vacanza? Sì! Momento in spiaggia o quello serale? Quale preferite? Momento in spiaggia qua, è più movimentato, più carino, tutte le attrazioni, molto bello. All'RDS Beach Village la festa iniziale 10 del mattino con tanto intrattenimento. Qui alle mie spalle vedete la fila per accedere ai gonfiabili che riunisce davvero tutti, bambini ma anche adulti. Che si fa oggi? Oggi andiamo a si gonfiabili. Primo giorno? Sì. Emozionato? Sì. Divertimento anche per gli adulti? Sì, anche per gli adulti, adulti giovani soprattutto. C'è il palco qui e poi i concerti che sono bellissimi. Ci voleva San Benedetto. In fila da quanto? Cinque minuti. Per? Per fare un giro? I gonfiabili, sì. Sei contenta? Sì. Quale attrazione ti piace di più? I gonfiabili. E vederli giocare è una gioia per noi e per loro. Ti tratterrete anche per il concerto questa sera? Probabilmente. Lavorare sotto il sole, com'è? Faticoso però anche divertente. Qua devo dire che queste persone sono molto educate. Divertono di più i genitori e i bambini? Ma anche i genitori, è divertente, è molto divertente, anche per i grandi, non solo per i piccoli. E dopo il divertimento dell'RDS Beach Village, la festa si sposterà qui in Piazza Falcone e Borsellino. Vedete le transenne in questo momento. L'aria sarà aperta al pubblico a partire dalle 19 per l'ultimo attesissimo concerto di questa. Tre giorni sul palco si esibiranno J-AX e DJ Christian Marchi e atteso il tutto esaurito. Grande successo sabato sera per il live di Achille Lauro che ha ripercorso i suoi più grandi successi. Folla in visibilio per uno degli artisti più eclettici del panorama musicale italiano. Grazie a tutti, sta benedetto, mi amiamo! Termina qui l'edizione serale del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, arrivederci.